Chi non muore si rivede, chi si rivede non è morto e tra poco muoio io Sentite la potenza? E ciao a tutti ragazzi sono Loren FNAF 3 Si FNAF 3 Allora ragazzi ricominciamo questa serie dei vecchi FNAF La prima volta abbiamo fatto FNAF 1 col cardiofrequenzimetro Abbiamo fatto FNAF 2 con mia cugina e ora facciamo FNAF 3 col cardiofrequenzimetro La prossima volta vediamo Senza ricordarmi assolutamente nulla, senza andare a vedere nessuna wiki Quindi io anche se questo gioco l'ho strafinito 20 milioni di volte Lo andrò a rifare senza ricordarmi nulla In compagnia del gatto che dorme Piccolo Ok notte 3 già pronta Vediamo quanto sono con i battiti 85 nell'intro Grande Go Let's go Non mi ricordo come si gioca Ci abbiamo Springtrap Il nostro Springtrap Quanto tempo il nostro Springtrap Mutiamo la chiamata No no vabbè no Lasciamolo perché così mi ricordo dei vecchi tempi di FNAF 3 Quanta era figa l'ambientazione di FNAF 3 Giuro non ci capiamo in niente perché come vedete qua ogni 5 secondi sfarfallia Però va bene ci sto Dov'è Springtrap? Dov'è Springtrap? Springtrap Se ben mi ricordo noi abbiamo due cose Il play audio e la mappa Per andare a vedere i condotti Se poi c'era un condotto bastava premere Ventilation error Ah c'erano pure gli errori Me lo si scordato Non me lo ricordavo così FNAF 3 Cos'è sta roba? Luna del mattino Cos'è? Cos'è? Dove sono? Dov'è Springtrap? Dov'è Springtrap? Ando diavolo stai? I ma... Dove sei? Dove sei? Qua Chiudi Sì Sigillato Eh Springtrap Quanto tempo Video error Proprio mi mancavano sti errori di camera Mi mancavano sai Springtrap No No Palla poi Fatto un pallo poi no Non ci voleva questa Ventilation Amuri Arripicchiati 2 del mattino Quanto sto? 87 Molto tranquillo devo dire Pensavo peggio Già spara da 120 Dove sei? Eccolo 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 Ritorno qua Ascolta ballon boy Adesso dovrebbe essere ritornato Sì Quanto era figo Feraf 3 Semplicemente perché Comandavi Springtrap Te Deve ritornare qua Visto ti ha detto Hai Ed è ritornato Basta solamente controllare Springhi e le telecamere E siamo tutti A posto Video error No Non ci volevo questa Se Springhi si avvicina Io sono fregato Vero dormimi Quello si lecca Non gliene frega assolutamente niente Qua io muoio Tu ti fai cavoli tuoi Vergogna Ti ho visto Oh allora Adesso vattelo a vedere Come sistema di ventilazione error No No Non ve lo puoi fare No Springhi no No E qua D'annato No Ecco per chiudiamo gli errori Quanto era? 86 92 Quanto era? Non lo so Non l'ho capito Nozione FNAF 3 Non era difficile Per Springtrap in sé Ma per gli errori di sistema Se tu ti becchi il bug Dei sistemi di ventilazione Mentre c'hai Springtrap All'interno del sistema di ventilazione Si è fregato Ok ora che ho fatto la prima partita della note 3 di FNAF 3 Ma mi volete male? Cioè spiegatemi Regà non lo capirò mai questo gioco sinceramente Ma Springtrap iniziava da qua vero? Quindi ritorna indietro Ritorna indietro dove ti dico io Qua Grazie Sono sicuro che questo gioco piaccia a Dead Master Ne so convinto 89 No 92 93 94 Sono corso un pochino ritardatario Comunque oggi il mio cuore è calmino Non si sta spaventando più di tanto Perché sì effettivamente Non è che faceva tanto paura Torna qua Non so perché Torna là Ok qua Adesso caricati E torna indietro Torna qua indietro Indietrissimo Vai qua No non viene Mi ha fregato Dannato Video error Molto calmo sto gioco Un'una del mattino lo sapevo Entrato 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 Ora veloce Ora veloce Ora veloce Ora veloce Ora veloce Bloccato 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 Adesso quanto scommettete che c'è errore di sistema di ventilazione Perché FNAF 3 mi voleva talmente bene con questi errori Che me li facevo Lo sapevo Sono il ninja di FNAF 3 Sono pure un genio 2 del mattino 91 battiti Molto tranquillo devo dire Ma che l'ho tolto il sistema C'è l'ho tolto l'errore Che fai Non c'è più errore L'errore ce l'avete nel cervello Audio error Certo giustamente Io vado ad utilizzare quello E poi audio error Che ne so Facciamo passare Fanta e Foxy davanti Tanto so che questo gioco mi vuole talmente male Che davvero lo fa No Non volevo peccarlo No No Non guardare Non guardare Freddy Fred E non l'ho guardato però E mi avete rotto ora Rebutto tutto Rebutto Ora quello è nel sistema di ventilazione Vero? 3 del mattino Oh mio Dio Quanto tempo ci impiegava A fare quella roba Sì 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 Non c'è Non c'è L'ho fregato Ok No Mi odi Mi odi Mi odi tantissimo Questo errore è ora Ma che cosa succede qua? Si era bloccato il telefono Si era bloccato Quindi non stavo registrando Da quanto ce l'ho? 83 È normale Che cosa vuoi da me? Cioè ora mi devo pure preoccupare del telefono Davvero Non c'è Non è lui Sono piccoli problemi di cuore Nati da un'amicizia Quanto sono? 87 Ok Oh raga che volete? C'è senso Adesso lo spavento arrivò 94 Grazie Sono stato scemo Perché non ho controllato Come fosse Springtrap Ho pensato di più A far La registrazione Spring Tu sei uno dei miei Preferiti Dopo Foxy Il problema è capire dov'è Che costo sfarfallio Non si Video error pure Ma quanto ti odio Dai Vuolimi bene Ti prego Priché Ti ho fregato La vita ti ho fregato Dimmi che è venuto qua È là È là Forse è là Forse è qua Forse Cioè nel senso È qua È qua Ritorna indietro Ritorna indietro Audio error 86 battiti al minuto Ok Cioè devo rimanere ogni 5 secondi così Per farlo andare via Tu muoviti E io ti faccio questo Intanto i miei battiti Stanno salendo 94 ma cos'è Perché Non ho toccato E c'è Mamma mia quello va nel sistema di ventilazione Lo so Lo so Mi vuoi male Da sbrigare Play audio Lo sapevo No raga mi ha fregato Mi ha fregato Mi ha fregato Maledetto condotto Maledetti Maledetta camera system Tutte cose Dov'è Dov'è Vallo a beccare Vallo a beccare Che ne so dov'è Ho chiuso quello sbagliato Ma non è che è ritornato via Eh Ma tu non eri salito Nei condotti di ventilazione Sprint up Non mi fa partire l'embo Lo so Le 3 del mattino 4 del mattino Incredibile Ci siamo Vive Eccolo Eccolo Ti prego Ventilazioni Sei gelato Ragazzi arrivo qua Cento un miracolo Guarda se resto vivo Il mio cuore è tranquillo Mi fa ben sperare Almeno questa cosa Sì ma qua il problema resta I condotti di ventilazione Sono i più maledetti Qua qua Ritorno indietro Ritorno indietro A bro A frate Grazie mille 5 del mattino Raga Abbiamo finito la notte Battuta la notte L'ansia Ti ho chiuso Già da prima 95 lo so Sto impazzendo 6 del mattino Sì Gatto Lasciamo perdere Danza la vittoria Io comunque direi Di fare complimenti Al mio cuore Che oggi Sta reggendo benissimo Allora guardate Io l'ho messo di qua Però la spunta Che sono morto Oh Terry Piggy Non sono più Un essere umano Non ho più un cuore Sono apatico È ritornato Springy È ritornato Springy Eccolo Come tu si muove E io lo playo Ah oh Ok ti sei ripreso 77 Così di colpo Boom Evviva È arrivato Dopo Gigio Ok è qua Devo ritornare indietro Ritorni indietro Ascolta Bua Bravo cagnolino Bravo cagnolino Ora ti do Una carotina Ma vi immaginate Se il sistema di ventilazione Non funzionava Quante le dovevo tirare No no Video error no Non tazzazzare Video error no No Oh mi stanno facendo arrabbiare Sti animatronics Che cosa ci devo fare Che posso L'unanimatronics Tutti gli altri Sono fantasmi Allucinazioni Sono vittima di droghe pesanti E ora facciamo camera system E vediamo se Nige di ferra Ce la fa A sbatterlo in galera A questo coso Enorme 4 al mattino Se a seguito i miei consigli Seguimi consigli Seguimi consigli Almeno terminiamo stanotte Dai 5 del mattino È là Audio device No 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 Springhi no Springhi no 5 del mattino Sono Springhi Hello No No Odio Pallonboy Vabbè Era arrivata Alle 5 del mattino L'avevo completata Fine Fine del discorso Ciao Ok ragazzi Io direi Che il video di oggi Lo posso anche Terminare qua Spero tantissimo Che vi sia Piaciuto Ovviamente Comunque Iniziare dalla notte 3 Senza ricordarsi Più come si gioca Più quali sono i meccanismi Che è sto complicato Le notti vengono facilissime Quando sono fatte gradualmente Ma così di colpo Il mio cuore 94 Chiede pietà E niente Mi raccomando Vi invito di iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Lasciate tantissimi I pollici in su Per un prossimo episodio Di questa serie Dove vado a fare La terza notte Di tutti i giochi possibili Immaginabili Al mondo di Braff E allora ci vediamo Ad un prossimo video Ehi E ciao Ciao